Questo qui è comunque dunque, questo è molto scuro, e adesso che c'è questo fatto, posso oscurire un po' il fondo. Il fondo c'ha dettagli che io non sto neanche a considerare, ve lo dico subito, anche perché sono abbastanza inutili. Su questa barca non c'è, adesso me ne accorgo, non c'è albero. Ma in effetti, avendo il fondo, avendo il fondo... Ah, vedi che questo è sbagliato? Perché questo qui, il fondo, non è dritto, non è dritto così, non è dritto così, ma scende, perché ci va il motore, vedi, mannaggia, mannaggia. E poi risale, e poi fa così. Quindi qui, boh, dovrebbe scendere così, e risalire così. Qui c'è una cosa così, e qui c'è un po' d'ombra. Questo qui, ma qui fa così, e qui va bene così, va bene così, va bene. Ora, qui non può essere così chiaro, questi non possono essere così chiari. Qui c'è un po' d'ombra, qui anche, queste costole, non possono essere così chiare. E anche queste. Questo va così perché sta sopra. Questo va scurito. Allora, la barca sta volando. Intanto io gli farei... Sta barca, intanto, non può essere passata più in ombra, ma deve avere... È verità? Grazie a tutti. Ah, c'era anche il supporto. Praticamente qui, messo così, c'è un supporto che tiene sulla barca immagino così. Il tutto è una zona d'ombra. Continuiamo domani. Ciao. 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 Ciao.